Giampaolo Giuliani, lo sappiamo, è stato un pilastro per questa città, per molti, per altri no, però per molti, tipo me, tipo tanti colleghi, è stato un pilastro perché raccontava quello che lui studiava, quello che lui sperimentava. Io l'ho mandato in radio e molti lo hanno mandato in tv per tanto tempo, proprio per rassicurare gli Aquilani. È una figura che qui è diventata ingombrante, ma è una figura a cui io e tanti come me sono particolarmente legati.